wow ci siamo siamo arrivati a bucarest ragazzi allora ragazzi siamo sì a bucarest so che da tantissimo tempo volevate dottor palmas nel cuore pulsante della romania allora voglio che ora dici a tutti perché romania perché bucarest perché proprio ora è qui allora bucarest mi faranno il volo diretto per la sardegna per cagliari io me ne vado il venerdì a cagliari faccio una nottata e torno qua il lunedì facile no no semplicemente le cose si evolvono e da tanti anni dovevamo entrare in romania perché tutti noi il nostro staff parla rumeno siamo famosi in romania smile dent il brand che con cui ci conoscono in romania è fortissimo e tappa obbligatoria dobbiamo aprire qua questa clinica doveva essere proprio a bucarest perché bucarest poi la città con con tutte le altre città della romania e soprattutto forse questa è la cosa più importante la città più connessa con gli aerei di tutto l'est europa in assoluto è come essere a hitro londra oppure gfk di new york qua ci sono aerei per qualsiasi nazione qualsiasi qualsiasi città e anche più volte al giorno cosa facciamo qua di cosa si occupa questa clinica di bucarest questa è una domanda interessante perché bucarest come anche la clinica di di asci che è un'altra clinica che abbiamo aperto all'est della romania sono delle cliniche che nascono principalmente per la prima tappa la tappa chirurgica e principalmente casi un po meno come dire complessi non facciamo la chirurgia zigomatica quella viene fatta sempre a chisci no semplicemente perché ancora qua non abbiamo l'anestesia generale e tutto quegli apparati che ci servono la burocrazia un po più lunga qua a bucarest anche se abbiamo la stessa equip però è meglio dare il tempo della burocrazia quindi noi inizialmente faremo o lo sic solo nette ricostruzioni osse tutto quello si fa l'unica cosa che non facciamo ancora sugli impianti zigomatici e i denti definitivi per quello sempre a chisci no all'istituto sviluppo ricerca bocca bionica ha detto prima che abbiamo qui la stessa e chi parlami un po dell'equip che troveranno i pazienti che verranno qui per la prima volta noi tutte le start up le facciamo con l'equip storica il dottor fania dottor andrei dottor mi hai michele noi facciamo le start up con l'equip rodata l'equip che storica da anni ha messo migliaia e migliaia di impianti dentali e perché deve essere quella la cellula che si divide che insegna poi a i nuovi ragazzi che entrano a lavorare con noi il miglior modo per insegnare nuovi ragazzi è proprio esserci io il chirurgo il protesista con i quali ho iniziato questo è il motivo per cui si inizia sempre anche con la chirurgia in una clinica la protesi la vediamo sempre a kishinau in moldavia magari parliamo proprio del percorso di un paziente una volta arrivato qua in clinica percorsa arriva con l'aereo lo trova la ragazza in aeroporto col taxi e arriva al hotel diesel col quale abbiamo stretto un'ottima collaborazione e ci tengono i prezzi calmirati vi ricordo che bucarest rispetto alla moldavia i prezzi sono del doppio qua anche i dentisti costano il doppio noi no costiamo quanto la moldavia infatti tutti i dentisti di bucaresti sono arrabbiati con noi però il percorso è uguale lo stesso che si fa in clinica arrivi ti danno il benvenuto le ragazze che si occupano quindi le key patient guide del benessere del paziente le portano poi dopo il check in a mangiare e poi in clinica per una visita si fa la tac 3d si fa l'analisi in equip col protesista e si verifica quello che va fatto dopo di che ci si agenda con la chirurgia si registrano tutti i record iniziali e a quel punto si va avanti con l'impronta fino alla posizione poi dei provvisori sugli impianti dopo di che il paziente torna a casa e ci si rivede dopo otto di mesi per mettere i denti definitivi in questo caso i denti definitivi verranno fatti in moldavia ma se parliamo infatti dei prezzi e a bucarest abbiamo gli stessi prezzi di chi c'è no la ti faccio un esempio i bui pazienti che vengono da noi qua bucarest applichiamo lo stesso listino prezzi della moldavia ma i prezzi di bucarest sono né più né meno che gli stessi prezzi in italia normalmente i dentisti a bucarest costano forse il 20 per cento in meno rispetto all'italia noi no noi abbiamo deciso di mantenere i prezzi gli stessi italiani ma non a lungo presto ci dovremmo poi uniformare a quelli che sono i prezzi locali io penso che ancora per 4 5 mesi potremo mantenere questi prezzi quindi chi deve iniziare e si trova in una città sconnessa adesso con la moldavia sicuramente gli dico bucarest viene a bucarest finché ora i prezzi sono basi perché dopo non è garantito che manterremo questi prezzi e l'unica soluzione rimarrà come sempre insomma quella che sempre stata a chisina se parliamo dei materiali anche qua vengono esatti gli impianti quelli che si fabbricano a reggio emilia migliori usiamo sempre gli stessi impianti impianti italiani e le stesse tipologie di tecniche che utilizziamo a chisina sono le stesse che utilizziamo qua siamo noi siamo noi ci siamo portati gli attrezzi del mestiere abbiamo semplicemente cambiato la sala dove vengono fatte le chirurgie tutto la i prezzi sono gli stessi le ragazze sono le stesse e l'obiettivo qua è quello di formare poi l'equip smile dent la stessa che dicevo per cui siamo diventati famosi qua in romania che sarà principalmente in futuro un'equip chirurgica dedicata ai pazienti locali con prezzi locali quindi approfittatene perché durante il periodo di start up i prezzi rimarranno gli stessi dalla moldavia con la possibilità di avere l'aereo che costa meno per venire a bucarest ci sono più connessioni noi vi diamo una mano con i prezzi con le connessioni e voi ci date una mano semplicemente in questa fase di start up poi se andiamo un po sul personale te piace bucarest mi piace tantissimo e proprio stanotte mi sono messo un bellissimo documentario fatto da dei blogger italiani che mi faceva vedere tutte le varie zone di bucarest non pensavo che ci fossero così tante cose belle da vedere e non vedo l'ora di andarmi a vedere tutti i vari parchi che ho visto nel documentario l'architettura e simil francese tant'è che era stata definita bucarest come ho visto un documentario la piccola parigi dell'est è un po dappertutto nel centro storico vedi questi questa architettura che ricorda parigi è veramente bella bella cia poi la metropolitana il traffico non te lo dico come tutte le grandi metropoli intenso quindi conviene viaggiare con uber se devi fare piccoli spostamenti o mi sposto col monopattino elettrico anche qua ci sono tutti i vari monopattini elettrici è più semplice anche dal punto di vista delle connessioni perché chi vive in europa non deve cambiare come a kishina o la sim telefonica ma qua va in roaming automatico non devi spendere un euro di più taxi due euro ristorante con 15 euro mangi tutto più semplice devo dire qua a me piace bucarest è veramente una bella città puoi anche perché il cambiamento non è troppo grande perché magari quando arrivano a kishina o c'è è un magari un cambiamento un po radicale cambi da una città all'altra però bucaresti una città europea tra l'altro è la sesta più grande città dell'europa quindi con un milione di abitanti ma che al giorno ne ha più di 3 milioni quindi per mezzo si 3 milioni e mezzo di abitanti qua bucarest e ripeto una delle città più connesse dell'est europa perché è una capitale economica dell'est europa e la locomotiva potremmo dire ci sono qua tante aziende se ci sono sgravi fiscali uno dei motivi per cui molte aziende hanno aperto qua bucarest ed è ripeto una nazione molto grande parliamo ora non mi ricordo se 25 35 milioni di abitanti è il triplo come estensione dell'italia e il lavoro non manca ed è una di quelle nazioni come ti dicevo qua contiamo di aprire anche altre cinque cliniche in tutta la romania che saranno iper specializzate nella riabilitativa estrema della bocca quindi chirurgia maxillo facciale ci hanno già contattati anzi questo non lo posso dire top secret ma sappiate che diventeremo grandi 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 qua bucarest questo si sa dottor palmas va sempre avanti quindi io penso che abbiamo finito vero abbiamo detto un po un po di tutto ma la cosa più importante è che sicuramente nei prossimi mesi tutti i pazienti che verranno a bucarest sappiate che troverete dottor palmas qui ci mancherà a kishinau ma lo condividiamo un po con voi qua io continuo a venire a kishinau io purtroppo sono destinato a viaggiare in aereo a vita fino a oggi ho fatto fatto il calcolo circa tre volte il giro del mondo ogni volta che prendo un aereo mi faccio il segno della croce perché statisticamente sono vicino e mi vedrete almeno una settimana al mese a kishinau un saluto ragazzi e ci si vede o a kishinau o a bucarest